Unico come l'intensità dei suoi colori, sottile come la linea del suo orizzonte, diretto come il sole che illumina le sue terre, energico come chi in questa terra insegue il proprio sud. Basta una fetta di pane per scoprire il gusto degli oli extravergine di qualità della campagna. L'Italia è l'unico paese al mondo che può vantare oltre 500 varietà di olive e ben 48 oli extravergine DOP e IGP. Se pensi che gli oli extravergine sono tutti uguali non sai cosa ti perdi. Grazie per la visione!